Ancora una volta parte della spiaggia di Jesolo è stata interessata da un'importante mareggiata e la zona colpita è sempre quella della Pineta, da piazza Torino al Trocadero. Circa 4 chilometri erosi in aumento rispetto al passato, ancora da quantificare i danni. Stiamo attivando per vedere e valutare quanta sabbia è stata portata via, ma al momento siamo in fase di valutazione. Erosa buona parte della sabbia che di recente era stata posizionata. Purtroppo è stata fatta un'azione di ripascimento nella zona che porta dal Trocadero, dalla focce del Piave fino a Pineta 2000, che è in questa zona qua dove ci troviamo e praticamente è stata erosa quasi tutta. Non ci sono particolari timori per l'apertura imminente della stagione, ma c'è una preoccupazione. La preoccupazione è sempre maggiore perché ogni volta che viene un po' di mare e forza di questa entità porta via sempre la spiaggia e la sabbia che noi ogni anno rimettiamo sempre sulla renile. Intanto il sindaco De Zotti fa sapere che si sta affrontando la fase di gara per il ripascimento visti i fenomeni precedenti che hanno colpito Jesolo e per i quali sarà chiesto lo stato d'emergenza alla regione.